Sono contento come dicevo prima per moltissimi aspetti perché è stato un gol decisivo, il mio primo gol, ci tira fuori da un momento un po' complicato soprattutto a livello di risultati, era un derby quindi siamo doppiamente contenti. C'è solo soddisfazione per aver portato a casa una partita comunque molto difficile, non saprei dirtelo, probabilmente a volte la troppa voglia di andare a fare gol, di fare risultato ti porta magari ad allungarti un po' a concedere più spazio agli avversari, cosa che prima non veniva fatta. Si pensava prima magari a non prenderlo che poi in qualche modo un gol si faceva. Il giro di ritorno è totalmente diverso, le squadre cambiano e noi abbiamo magari fatto questo errore. Oggi penso che anche da quel punto di vista ci sia stato un ritorno alla compattezza che avevamo prima. Ma noi dobbiamo guardare poco la classifica e più partita per partita perché è l'unica chance che abbiamo di non avere qualche rammarico alla fine del campionato. Direi però se magari la penultima vincevamo, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, se poi le altre riusciranno a mantenere il passo che hanno sarà difficile raggiungere. Però noi non dobbiamo regalare dei punti e dobbiamo fare il massimo possibile per appunto non avere rimpianti. Grazie.